Il testo interdicasteriale sulla Laudato Si vuole essere uno strumento molto pratico ed operativo che si rivolge a tutti per spiegare in maniera semplice i contenuti della Laudato Si e dunque il significato di un'ecologia integrale che metta al centro l'uomo e un'adeguata antropologia per proteggere il creato. Ha una funzione educativa e pedagogica che si rivolge a tutti a livello istituzionale ma anche a livello di famiglie, di singole persone, si rivolge in particolare ai giovani, la famiglia è il luogo primario dell'educazione, il luogo dove i genitori possono insegnare i bambini fin da piccoli a rispettare gli altri e a rispettare il creato, ma i giovani possono anche loro dare un contributo molto grande con la loro sensibilità nei confronti degli altri e della terra. Sicuramente è uno strumento pratico perché contiene anche piste di azione e buone prassi che si sono diffuse in tutte le parti del mondo e che si possono riprodurre ovunque. Dunque è un testo che si adatta a essere distribuito nelle parrocchie, nelle diocesi, ma anche nelle famiglie che tutti possiamo leggere.